Associazione ex allievi del CFP Fonte, oggi c'è stato un pranzo, ecco qua alcuni volti degli ex allievi. Salve, io sono Sonia, sono un'ex allieva del CFP, fiera anche di essere stata in questa scuola, ho frequentato negli anni, i primi degli anni 80, il settore del commercio e poi ho trovato lavoro in paese. E anche un marito? E un marito anche qui accanto. Io sono Tresalino, ho fatto elettronica, elettricista elettronica in primi anni 80, ho trovato lavoro nel mio settore e sono contento di aver partecipato a questa scuola qua. Grazie. Sono Agustino Saretta, ho frequentato negli anni 60, corso di meccanica, proprio quasi nella fondazione di questo centro e sono imprenditore. Sono Fulvio, ho fatto il corso di elettromeccanica negli anni 80 e ho trovato lavoro come manutentore elettrico in un'azienda metalmeccanica. Ecco, è vero che anche il figlio suo viene a scuola qua? Eh, è suo, ecco qua. Buongiorno, sono come in Carlo, ho frequentato negli anni, i primi anni 80, il corso di elettricista, attualmente sono artigiano elettricista e ho anche un figlio che frequenta il secondo anno di elettricisti qua nel centro. Ok, allora Carlo e Agustino sono anche due imprenditori. Agustino Saretta è una grande impresa che opera soprattutto all'estero, quasi 90% all'estero, 150 dipendenti, che ha sede a Mussolente, casoni di Mussolente, mentre Carlo, artigiano di fonte, impianti elettrici, da solo con... Quindi allievi che diventano imprenditori, dipendenti, collaboratori. La signora ha quattro figli, mamma è attirata su, è stata attirata su una famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Negli anni, negli nostri anni, noi abbiamo fatto nel 1980, abbiamo fatto proprio un'indagine, 12.000 Eccasallievi, su 12.000 Eccasallievi il 60%, ma questi sono dati reali, il 60% sono o imprenditori o dirigenti dell'azienda, venuti fuori da questa scuola. Bene, allora il prossimo appuntamento, Presidente, quando è a... Beh, il prossimo è nella festa che facciamo il 4 maggio, che è la festa del nostro grande Don Erasmo. Bene, grazie a tutti e arrivederci. Grazie a lei.